He lost my car Ho ucciso Oh regà Già si parte così Eh sì Comunque scusate Se sto facendo solo un video al giorno Ma a questi giorni Mi giuro che non sono stato tanto bene Però tranquilli che il video Non ve lo faccio mancare mai Non so perché regà Sono stato un po' male Speriamo che mi riprendo presto Mamma mia Quanto è ripita la rampa Non so se avete visto Oh Aspettate Asui Atterra qua Atterra qua Asui Dai No No Allora di nuovo qua Eh sì Dottiamoci Io voglio atterrare dove dico io Aspettate Apriti No Sbaglio sempre Eh regà È tosta Veramente tosta qua Ce la potrei fare però Un po' difficile Doi 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 Eh dai Esui Grandissimo Vai vai scendi Scendi giù No regà No no guida Guida Sui Guida Guida Sui Per favore No 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 Sui Sui Aspettate Asui Guida Non potere Sui Devi guidare prima che arriva qualcun altro Che voglio fare la mica rappa io Speriamo che capisce Sui Guida Chi è? Guy killer Atterra tu pure qua Guida Sui E scappa Doro Rimani qua Guy killer E non uccidere Per favore Ok Ok Un potere Dersuino Ok regà Oh mio dio Oh mio dio Che spettacolo Perché si è fermato? No Perché? No sui Dai Guida Ah si è Si è rotto sui Non lo so Non mi chiedete niente No Non è tutto ok Fai la mega rappa sui Perché di qua Non lo so che sta a fare Si 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 La mega rappa Per favore sui Mannaggia Perché? Senti un po' Giuseppe Guy killer Andate a guidare No Vuole fare i poteri qui con noi Non vuole guidare Mannaggia E va bene regà La faccio io la mega rappa No no Non uscite fuori Rimanete qua No regà Vi giuro Non si può fare niente Niente con questi suini Non c'è modo di mettersi d'accordo Eh Mannaggia Ok che killer Almeno guida Eh no Guidate regà Che io voglio fare la mega rappa Ok Ok Forse stavolta è andata eh Oh Finalmente mi hanno capito Mi hanno capito Meno male Oh Dio Dio Regà No Ero ancora vivo E vabbè E la miseria quante ripida Vedo l'ora di provarla eh Allora Con il dump? Si 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 Il dump il dump è mio Dai Ok Mi serve proprio il dump a me eh Andiamo Che è quell'elicottero? Non lo so Ok Atterriamo proprio davanti al dump Oppure ci Sfracelliamo No Diciamo di si dai Sali 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 Dobbiamo andare a consegnare Non so cosa eh Il dump è qualcosa da consegnare? Si 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 Andiamo E la miseria quanti aerei Via 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 Andiamo Oh mio dio Oh mio dio Ok Mamma mia regà Che spettacolo È ripetissima Perché non gira una ruota? Che è successo? Non lo so Non ho idea Una ruota sta ferma regà Non so il perché Comunque sia noi scendiamo lo stesso Vai Un po' più veloce potevi andare eh dump eh Dopo scendiamo in qualche altra macchina Vai 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 Dove si consegna? No Non mi devono uccidere questi eh Mi schiaccio io Stanno pure le biciclette Si Vai vai un trick sui No Non ce la faccio a far trick È la miseria Devo andare a consegnare regà Devo consegnare È la miseria quanto salta lontano l'insurgente eh No 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 Non uccidete polizia Quattro stelle addirittura Mio dio Allora Dovrebbe essere là il punto di consegna eh Proprio dove sta il posto di blocco Eeeh Passiamo di qua Ok Sto quasi a morire No ancora un po' di vita ce l'ho Credo che ce la facciamo eh Pure la polizia ha consegnato Guardate Olle Abbiamo consegnato Eh si Dammi 100 RP Subito Comunità Si eccoli qua Però mi hanno fatto secco Ok Adesso Proverei A fare qualcos'altro Regà Voglio provare a fare una cosa un po' estrema eh Il carrello ce l'ha l'aereo Si Allora Era ovvio che ce l'aveva però Sempre meglio controllare Ok Vorrei fare tipo Una cosa Del genere No Non viene regà Non viene Potrebbe essere che è colpa del carrello eh Vogliamo provare senza? Massimo Proviamo Vediamo un po' eh No Occivato lieve lieve però appena tocchi esplode Bella però questa mega rampa antica eh Io voglio beccare a giochi Dove sta giochi? Eccolo qua Senta chiappo No regà Devo fare il giro che sta col paracaduta e si comprende eh Se ci riesco Eccolo Bam Credo di averlo preso però eh Non lo so Mettiamoci Ok Che so quelle bombe Qualcuno c'ha le granate eh Eh mi sa di si Ci sono le granate Guarda qua che risse che fanno Ma sui Ma come si permette Giuseppe Ma come le permetti Giuseppe Allora Ci dovrebbe essere un insurgent No guardati Devo passare Devo passare Oh guardate questo dump Come sono parcheggiati bene Qua ci indica un insurgent che sta proprio qui E vai Allora Prendiamo questo bel insurgent Ok Ciao vi Tu scappi No 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 Tu non vai da nessuna parte Ok l'ho fatto secco Sali 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 Oh un suino che si è bloccato Guardate un po' Che è successo No stop Guarda io Dai dobbiamo consegnare qualcosa eh Se no non sto a fa niente Allora Scendi giù Ok l'insurgente mio è quello no Proprio questo qua Vai 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 Atterra qua atterra qua così Guidiamo subito Sali 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 Veloce Cos'è sfiduoso Che lo so Regà Che sta succedendo Via 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 Regà Dove ando a consegnare io Ok No regà Ho sbagliato Ho sbagliato credo Rimettiti bene Rimettiti Bene sui Ho perso il controllo eh Dai Dai va bene così regà Va benissimo Oh No Oh Aspettate No Non cascare No Che peccato E mo non posso risalire Non credo che posso risalire eh Però ci proviamo dai Andiamo per di qua Che stanno a fa questi? Eh L'RPG oh Eh qua non credo che passa eh Veloce 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 Sì Mamma mia l'insurgente Quanto è potente Eh Credo che riusciamo anche a consegnare Chi è quello? Allora Andiamo Sali sui Guardate Hanno quasi vinto loro eh Consegna consegna Ok Che dobbiamo andare a prendere subito un altro veicolo Manca un punto della vittoria Hanno consegnato? Non lo so Più che altro non so neanche dove sto No ho fatto una cavolata Una cavolata ho fatto Sembrerebbe che ce la faccio eh Allora speriamo che nessuno consegna Cosa prendiamo di bello? Il camioncino va L'insurgente 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 Vai sali 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 No E vabbè Hanno vinto Gli altri suini Comunque sia la riavviamo subito Ok Stavolta voglio consegnare proprio Un sacco di veicoli Allora Spariamo qua Spariamo qua No regà non l'ho preso Non ci posso crede Ok Non proprio questo qua Via 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 Andiamo 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 Perfetto così No 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 Mannaggia No No pure il dump sopra di me E ce la faremo regà Vi prometto che ce la faremo Sali qua sali qua Perfetto così Allora No 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 regà Non ce la faccio più Non ce la faccio più Che è successo? Regà per un attimo pensavo che ero morto io Se magari parte Oh finalmente No No sui L'hai buttato fuori No 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 si recupera Si recupera Dobbiamo essere delicati Wow Ce l'abbiamo fatta Andiamo giù Che dobbiamo consegnare Stavolta però voglio vincere Voglio vincere a tutti i costi Oh mio dio Ma che Che è successo? Che è successo regà? Non lo so nemmeno io Allora Scendoci Oh Ok ok Non cascare giù Non cascare giù Perfetto così Andiamo Vai 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 Belli veloci Belli veloci State fermo sui Che dobbiamo andare a consegnare Ok Manca pochissimo Manca veramente poco Ma dobbiamo consegnare qua Ok Credo che abbiamo consegnato eh Dammi 100 RP sui Olè Adesso ci dobbiamo suicidare Ok Eccoci qua Allora Prima cosa Guarda hanno consegnato In tre quelli della mia squadra Non si sa che stanno a fa' Non mi volevo tipo suicidare Addosso Giovi Mamma mia Giovi Se ti ho ucciso No Mi sa di no Aspetta Giovi Dove pensi di andare Ti ho ucciso stavolta eh Se non ti ho ucciso Come Giovi mi ha fatto esplodere a me E dove è finito Giovi Non mi dico che è questo eh Non mi dire che questo è Giovi eh Aspettate No È rimasto solo il veicolo Però Giovi sta qua Oh Giovi che te becco Eccolo qui Giovi Dove scappi Eh non credo che vinceremo questa cattura eh Oh È scappato via Sta laggiù Come possiamo fare Non so come ha fatto andare così veloce in acqua eh Sinceramente No Adesso è sparito Che peccato Ci dobbiamo suicidare Allora Dobbiamo salire là Guardate quanti punti che hanno fatto quelli dell'altra squadra Non ci credo Non ci credo Non voglio manco consegnare io Sono offeso dalla mia squadra Allora Deviamo io un po' L'insurgente Giuseppe Mamma mia Vieni qua Oh Sei sceso Sui Mamma mia Che te fai i poteri Sui Chi è quello Vieni qua Vieni qua Dove pensi di andare Oh Levagli sto coso Levagli L'insurgente No regà A me non funziona mai Mannaggia Vai scendi Bravo sui No regà abbiamo perso Che peccato Ancora qui Giuseppe Ma che devi fare Oh Dove sta Eh qui Devo uccidere qualcun altro Guarda black mamma Dove pensi di andare Chi è questo Non lo so Non lo so Sali Sali e fregagli Il coso Oh Dove scappi Ok regà Tutti io li sto uccide Anche un altro Oh regà All'attacco 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 Eri qua Giuseppe Oh no regà Se mi sta piangendo Suino Povero suino No Mannaggia Chi è stato Vorrei proprio sapere Chi è stato Giovi è stato Non lo so regà Sta diventando Un altro tipo Di cattura Solo un punto E hanno vinto Loro E vabbè sti cavoli Ci siamo divertiti Lo stesso Dove stanno Oh regà Devo uccidere qualcuno Oh regà Ho in mente Di fare una cosa estrema Se ce la faccio Come ho ridotto In coltiglia Giovi Come ho fatto Voglio fare una cosa estrema Se non riescono Cioè speriamo Cioè speriamo Che non consegnano Perché voglio fare Questa bella cosa Allora Dove sta la rampa È qui Oh no Il dump c'è Che c'è Oh Vai su No regà Ce l'avevo quasi fatta Che peccato C'è qualcuno Oh stanno tutti là Stanno tutti in larga Aspettate Ok Dovrebbero essere Tipo qua Ma sui Che convini te No mi si è rotta un'ala Però io mi ricordavo Che sapevo guidare Lo stesso anche Con un'ala L'unico problema È girarsi Ok Aspettate Oh no Ho sbagliato Regà Sta per Netmore control Ah perché È mezzo distrutto Anche Ok Praticamente bisogna accelerare E fare così Però Tutto va bene Abbiamo finito Guarda Li hanno vinto Soltanto perché La mia squadra Stava messaggiando Su Instagram Comunque sia Se vi è piaciuta Questa cattura Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Su Instagram Saluti Questi suini Bella Soltanto perché 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 Grazie a tutti.